Amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, good morning, buongiorno, oggi parliamo ancora di mercato, poi tra poco finalmente parliamo di calcio giocato, però so che il mercato vi attizza sempre, allora di sensi vi ho già detto, secondo me l'Inter lo riscatterà comunque ovviamente ad agosto quando ci sarà la finestra apposita per risolvere situazioni di questo tipo, cioè per convertire in acquisti definitivi i prestiti onerosi, è il caso di Sensi che quest'anno appunto è costato 3 milioni, è chiaro che adesso darne 25 a Giovannino Carnevali, DS del Sassuolo, però questi erano i patti e non ci sono in ballo altri giocatori al momento come era accaduto in passato, insomma questo è l'accordo, è chiaro che poi uno va a vedere che Sensi quest'anno ha avuto 5 infortuni, che ha giocato solo 12 partite di campionato, 18 complessive ed è chiaro che suppongo che Marotta ci proverà in ogni caso a dire ok lo riscattiamo, magari faccio un prezzo un po' più basso anche per il discorso insomma dello stop per pandemia e quindi l'augurio è che l'Inter riesca a cavarsela con una quindicina dei milioni, però è chiaro che insomma siamo a 25 se dobbiamo dire quella che era stata la cifra pattuita e quindi poi non è mica colpa del Sassuolo se a un certo punto il giocatore si è infortunato così tante volte all'Inter, Sassuolo potrebbe dire da noi l'anno scorso ha fatto 30 partite, quindi l'Inter potrebbe rispondere vabbè però l'anno prima allora ne ha fatte 19, lui è un po' esposto a guai muscolari, insomma c'è da discutere ma sarà sicuramente una discussione civile perché conosco da moltissimi anni, ma proprio da tantissimi anni, tanto Giovanni Carnevali quanto Marotta so della loro amicizia e quindi sicuramente non litigeranno per Sensi e io credo, ripeto, che nei tempi desiderati dall'Inter cioè per iscrivere questa operazione nel bilancio prossimo, quindi facciamo finire il campionato, Sensi continuerà comunque a rimanere un giocatore dell'Inter, è chiaro con tutti i nostri dubbi sul fatto poi di quante volte ci potremo contare perché quest'anno purtroppo ci abbiamo contato davvero poco, adesso c'è tempo fino al 2 agosto, io mi auguro insomma che al di là del guaio muscolare l'ennesimo, Sensi possa rientrare. Questo per quanto riguarda il discorso di Sensi, il discorso di Lautaro l'avevo già anticipato, devo dire che le dichiarazioni del Presidente della Liga Spagnola Tebas al proposito erano state assolutamente esaustive, sintomatiche e chiare. In questo momento il Barcellona che ha un buco che si aggira dai 270 milioni di Euro, forse anche ai 300, non può permettersi di prendere Lautaro in contanti, l'Inter non accetta proposte assurde tipo la valutazione di Firpo, 40 milioni, quindi per il momento addirittura si sta studiando un'ipotesi di rinnovo per Lautaro, ma insomma a oggi sembra molto difficile che Lautaro possa coronare il suo sogno, se ha veramente questo sogno, ma lo capisco, anche se non si è mai espresso ufficialmente, di andare a giocare subito con Messi dall'anno prossimo. A oggi sul fronte Lautaro ve l'avevo anticipato qualche giorno fa, adesso qualcun altro lo dice, ma non mi interessa dire le cose per primo, poi ognuno ha le sue fonti, come dico sempre, ognuno ha le sue sorgenti, diciamo che Lautaro è fermo. Quello di cui vi vorrei parlare invece oggi è il cosiddetto mercato di cui nessuno parla. Secondo me in una squadra di calcio c'è un ruolo fondamentale, importantissimo, perché il calcio poi in fondo è molto semplice, se tu c'è uno che fa gioco in mezzo, uno che fa gol, sei già messo benino, sei questi due bravi, poi ci vuole quello che i gol li eviti, quindi sto parlando del portiere. Ragazzi il ruolo del portiere viene sempre secondo me a torto, perché è l'unico giocatore non di movimento e magari non fa così notizia, sottovalutato. Tu devi avere un portiere assolutamente affidabile e Andanovic lo è, per me è assolutamente il miglior portiere. Ogni tanto mi sono messo a discutere con qualche ebete che trovava Andanovic un portiere non all'altezza, perché poi pensi sempre a Sarti, magari Bordon, Giulio Cesar, Zenga, Pagliuca, a parte che ognuno è figlio del suo tempo, ma che Andanovic sia insieme a Scesni, mi sembra, in quest'ultimo periodo è anche un po' meglio di Donnarumma, lasciamo perdere le potenzialità, io parlo di rendimento, sia al momento il miglior portiere italiano credo che il 90-95% dei competenti interisti o meno sia d'accordo. Poi possiamo discutere, c'è quello a cui piace più Scesni, c'è quello che poi magari può piacere più Donnarumma, ma che Andanovic sia un big è incredibile. Io a Andanovic sono particolarmente affezionato anche perché ha preso poi in eredità la fascia di Capitano, che secondo me negli ultimi tempi era diventata pesante anche per tutto il gruppo, sul braccio di Icardi e devo dire che scegliere Andanovic come Capitano è stata una grossa investitura, lui è stato bravissimo, ha preso questo ruolo in modo fantastico, io mi ricordo lui non è mai stato uno di molte parole, Andanovic è una persona seria e ha detto una frase che diceva già negli anni Sessanta Luis Suarez, Capitano non è che lo dici tu, sono io il Capitano come pretendeva forse Icardi o più che Icardi Vandanara, lì addirittura la fascia dell'Inter fu, pochi lo sanno, fu oggetto di un mercimonio, di una trattativa per non dargli 500 mila euro in l'epoca, siamo ancora nell'epoca di Mancini, gli diedero la fascia, fascia che poi però Icardi non ha rappresentato, perché poi se il resto della squadra non ti sopporta capisci che Capitano lo sei se ti indicano gli altri, mi ricordo appunto che a Lugano, all'avvio di questa stagione, parlai proprio direttamente con Andanovic gli Fc, ho la domanda tra l'altro chiedendogli, senti ma adesso che sei Capitano, secondo te che cosa deve essere un Capitano in una squadra e lui mi aveva risposto un po' come Luis Suarez negli anni 60, Capitano non è che dici di esserlo tu, Capitano ti devono riconoscere gli altri e il Capitano deve essere un esempio, un esempio di professionalità e devo dire che francamente Andanovic lui è stato, lo è, sono tutti contenti di come svolge questo ruolo, però adesso mi sono un po' dilungato su questo, ma in realtà volevo parlare dell'Andanovic calciatore, perché come sapete da molto tempo poi c'è stato un rallentamento per via della pandemia, era imminente un prolungamento di contratto, un rinnovo anche perché Andanovic secondo me al di là dei 35 anni va assolutamente premiato e l'idea era appunto di allungare il suo contratto che scade nel 2021 fino al 2022 e poi di prendere un secondo importante, vi avevo detto musso, ancora più di Radu, però attenzione perché nelle ultime ore effettivamente l'Udinese, ed è un po' il problema dell'Udinese ultimamente nel vendere, pare non voler scendere da una cifra che l'Inter trova esagerata, oltre 20 milioni per musso, è un po' anche come quando l'Udinese ha cercato di vendere Rodrigo De Paul, però ha sparato sempre delle cifre assurde e poi nessuna grande squadra si è avvicinata a un giocatore che secondo me è un bel giocatore, quindi l'Inter sta in queste ore effettivamente riflettendo moltissimo sul vice Andanovic e sulle rede di Andanovic, perché l'idea era gioca ancora Andanovic, prolunghiamo di un anno, intanto musso viene e fa il 12 che è già a titolare nell'Udinese e poi prende il suo posto, un po' quello che è accaduto con Buffon-Chez nella Juve. Devo dire che però nelle ultime ore l'Udinese continua a far sapere all'Inter che musso ha un costo molto alto e a questo punto quindi lì è tornato in ballo Yonut Radu che è già dell'Inter che però non sta giocando a Parma, era andato un po' con alti e bassi anche al Genoa ma il giocatore piace ad Antonio Conte, piace a Marotta, piace allo staff, quindi il discorso è che se veramente l'Udinese non cala le pretese su musso alla fine al posto di Padelli che non ha soddisfatto i requisiti per fare il secondo, inutile che ve lo dica, ve ne siete accorti da soli, potrebbe arrivare Radu, cioè l'idea di prendere musso ma se l'Udinese non accetta contropartite tecniche e non accetta ovviamente una cifra più bassa a questo punto potrebbe toccare a Radu, ecco però allora rinnovare di un solo anno ad Andanovic potrebbe poi essere un rischio e lanciare Radu che magari non è ancora pronto per fare il portiere dell'Inter, per questo non è escluso che il rinnovo di Andanovic che continua ad essere imminente possa essere addirittura di un paio d'anni, secondo me la valutazione è un po' questa, se dovesse venire Musso che dà già certe garanzie Andanovic potrebbe rinnovare un anno, se però l'Udinese continua a tirare botta, alzare il muro, a questo punto l'Inter va su Radu che è già suo e però magari spalma un pochino dell'ingaggio di 3 milioni e 2, Andanovic è l'ottavo giocatore se non ricordo male in rosa dell'Inter più pagato, ecco si potrebbe anche studiare di tenergli questo ingaggio un po' più basso e magari spalmarlo per due anni, Andanovic arriverebbe a 37 anni, ma vi ripeto l'idea poi è naturalmente di verificare se Radu è pronto per fare le rede, però io credo che Andanovic non mi spaventa il fatto che abbia oltre 35 anni perché è un grandissimo professionista, è una persona seria e tra l'altro con questo rinnovo arriverà in doppia cifra nella sua permanenza all'Inter perché se non ricordo mai è arrivato nel 2012, quindi arriverebbe fino al 2022, insomma nel solco dei grandi portieri che sono rimasti tantissimo all'Inter, potrei dire bordò, ma dico zenga naturalmente su tutti, insomma quando resti 10 anni all'Inter vuol dire insomma che sei veramente un grande portiere, questo dovevo Andanovic però è giusto che l'Inter pensi naturalmente anche al futuro e quindi adesso si tratta di discutere un attimo tra Musso e Radu per tutte le considerazioni che vi ho fatto. Amici una buona giornata a tutti voi, ci sentiamo presto con il prossimo editoriale, iscrivetevi come sempre, gradisco, o altrimenti guardate pure gli editoriali sul canale YouTube Gianluca Rossi TV, ciao, buongiorno a tutti, buona giornata visto che è mattina, ciao